Avvocato Montella, com'è cambiato secondo lei negli ultimi anni il mercato energy? Negli ultimi anni il mercato energy è profondamente cambiato, abbiamo assistito al progressivo consolidamento delle fonti rinnovabili rispetto alle fonti fossili, il gas è e continuerà ad essere una tecnologia di transizione mentre le rinnovabili hanno raggiunto un costo estremamente competitivo per cui possono progredire senza il supporto pubblico degli incentivi e questo disegna un assetto produttivo completamente differente rispetto al passato e di conseguenza anche le infrastrutture di rete e il sistema quindi di distribuzione, trasporto e fornitura dell'energia dovranno adeguarsi di conseguenza per un assetto produttivo molto più diffuso e distribuito lungo il territorio e completamente differente rispetto a prima. Grazie Avvocato.